Non necessariamente, ma in questo campionato quello italiano probabilmente sì. Però, se volete guardare il complesso della stagione rossonera, stava rischiando di farglielo perdere lo scudetto. Il Milan, e in particolare il suo allenatore, secondo me si è innamorato un pochino troppo della circostanza che veniva espressa dopo ogni partita sì, ma non abbiamo rischiato niente. Il Milan nei tre mediani affonda definitivamente a Palermo, un'orrenda partita offensiva, e da lì in poi Allegri pensa che probabilmente è il caso di restaurare un centrocampo più tecnico. E a questo punto c'è un solo uomo che lo può salvare, ed è ancora lui, il vecchio Pantera, che recentemente ha detto che gli perdono tutte le panchine. Non ci credo, però di fatto gli gira tutto quanto. Cosa succede? Che A, ci sono due settimane di pausa prima del derby, che è la partita chiave della stagione, B, a questo periodo dell'anno il ritmo del calcio scende, e se scende il ritmo di calcio e si corre meno, gente come Seda Fettotti fa totalmente la differenza.